3 da abbattuta Attenzione, UAV nemico in arrivo Arriva una granata UAB di disturbo alleato in arrivo UAV nemico in arrivo Centro confermato UAB di disturbo alleato Beccato Gangster massacrata Addio Ecco fatto Sparro è disponibile UAB di disturbo in arrivo UAB di disturbo alleato in arrivo UAB alleato in arrivo UAB di disturbo alleato in arrivo UAB di disturbo alleato in arrivo UAB di disturbo alleato in arrivo U.A.V. di disturbo in arrivo U.A.V. in arrivo Aater alleato in arrivo Seraf eliminata U.A.V. in attesa di ordini U.A.V. di disturbo in arrivo Il mondo ci guarda, evitiamo brutte figure Tacom U.A.V. subito Vedetta a terra U.A.V. 50% di autonome Wright alleato nell'area operativa Aater alleato in arrivo U.A.V. 2 confermati Fattori di rischio o GDP rimossi Ecco